Aspetta! Preparati! Ok, salta! Eh, salto! Ti copriamo da qui, Coop! Ho un pilota di Titan Nevinco nell'Ovaiatroni 5! Mi serve la sicurezza! Ora! Il fuomo sotto le scale! Sono dietro l'angolo, occhio al fianco a sinistro! Sono dietro l'angolo. Non riesco a sinistro! Non riesco a sinistro! Vado, coprimi! Sporker attivi! Free Sigma-4, incaccio il nemico! Bene, per colpo! Sporker attivi! Sporker attivi! Spack! Spack! Spack. Spack-4! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il motore di balzo è andato. Abbandonare la... Abbiamo perso la crasso. Mantenere la rotta. Cooper, finché i cannoni sparano, non ci muoviamo. Elimina il cannoniere e ti aiuteremo con gli ultimi due. Andato! Cannone 1 è andato. Non ci muovere la propria torba, cannoni! Non ci muovere la propria torba. Grazie a tutti. 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 Siamo in vantaggio su di loro. Grazie a tutti. Amo questo lavoro. Eh, non ci si annoia mai. Muzie a tutti. Grazie 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 a tutti. Muoviti. Muoviti. Grazie a tutti. Cooper, a tutti. Grazie 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 a tutti. Voodoo 1. Vado ad attaccare l'enemico. Sottenti a rompione di orecchie, figliolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Esatto. Grazie a tutti. Sottosegno. Grazie a tutti. Inimigra a terra, vai per un battaglio tattico. 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 Inimigra a terra, vai per un battaglio. Inimigra a terra, vai per un battaglio tattico. Inimigra a terra, vai per un battaglio tattico. Inimigra a terra, vai per un battaglio tattico. Inimigra a terra, vai per un battaglio. Inimigra a terra, vai per un battaglio tattico. 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 Ad inic entere, attenzione, attenzione! Dettaglio colpito, lascio l'attacco. Attenzione, creatori instabili. Ritesta sostituzione batteria. Fai perdita nel mirino al cento per cento. Batteria richiesta. Quando arrivi all'inferno ci rimanda vai per. Batteria richiesta. L'inferno è inutile. Evacuito. Attenzione. Navidad è riuscata. Enemico colpito vada a ucciderlo. Attenzione. Creature instabili. Questa sostituzione batteria. È il tuo ultimo viaggio. Definizione. Dovrei essere più veloce di posizione. La velocità evita. Attenzione batteria. Non si scelta. Siamo... Questa è il Crusoe. Abbiamo un attacco. Non si scelta. Non si scelta. Attenzione. Viva colpito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Attenzione, creatori instabili. Chiesa a sostituzione batteria. Il segnale è buono. Port 10. Anni eccessivi. Attenzione. Dovrei essere più veloce di così, figliolo. A velocità evitata. Nucleo randica sotto. Individuo al nucleo mirare. Passarà a due. Vai per via nel miripo. 100%. Anni eccessivi. Attenzione. Attenzione. Fai per uno colpito, ma ancora in azione. Attenzione, creatore instabile, richiesta sostituzione batteria. Fai per Dianel Mirino al 100%. Quando arrivi all'inferno di che ti manda Viber. Lascia che ti preventi il suono. Viber 1, precipito. Ho perso il controllo, precipito. Mayday, Mayday, precipito. Comandante Briggs, qui BT-7274. Vai per Attener. Ricevuto, sali sulla Draconis e proteggi l'arca. Noi prepariamo il trasferimento. Cooper, pronto per il lancio rapido. Ti consiglio di uscire.